L'approccio iniziale da parte mia è il medesimo che ebbi quando mi insiede al sindaco di Napoli con Caldoro, cioè che sindaco e presidente della regione, qualunque colore politico appartengano, hanno il dovere di collaborare al massimo. Poi ho ragione di ritenere che si possa migliorare la cifra dei rapporti tra Palazzo San Giacomo e Santa Lucia, se non altro per il fatto che devo dire soprattutto negli ultimi tempi da parte della regione Campania non abbiamo avuto un apporto positivo e significativo verso le doverose, giuste e legittime istanze del Comune di Napoli. Mi sembrerebbe facile la battuta dire che non si può che migliorare, ma io mi auguro che non sia solo questo, ma sia anche il fatto che De Luca ha un'esperienza di governo di città, è una città seppur molto più piccola e completamente diversa rispetto a Napoli, ma è una città straordinariamente bella e importante della nostra regione e che ha, come dire, amministrato per diversi anni. E poi ce lo siamo detti nel momento in cui lui ha iniziato la campagna elettorale e poi ce lo siamo ridetti oggi, le istituzioni devono collaborare, c'è tanto da fare, sono tante tavoli aperti e credo che da questo punto di vista ci sono spazi per mettere in campo buone iniziative nell'interesse delle nostre genti. Noi abbiamo questa fotografia, a mio avviso, della città di Napoli, un astensionismo fortissimo, cioè a Napoli ha votato appena il 40%, quindi il soggetto politico dominante di questa elezione alla città di Napoli è stata l'astensione. Quindi questo è il primo dato, secondo me, su cui bisogna riflettere. Il secondo, come ho detto prima, io la interpreto come una vittoria di Vincenzo De Luca, che ovviamente è un esponente del Partito Democratico, ma in realtà ha vinto, soprattutto visto che tu mi fai la domanda, su Napoli, soprattutto se pensiamo a Napoli, che non è una vittoria da questo punto di vista di un partito, di una coalizione, ma ha vinto sicuramente Enzo De Luca. Poi c'è sicuramente un risultato positivo del Movimento a 5 Stelle, in particolare nella città di Napoli, dove si è avvertito con nettezza questo aspetto che c'era un'autostrada, per chi come loro si sono trovati tra l'argomento monotematico di questa campagna elettorale, cioè che non erano i programmi di cui nessuno o pochi hanno parlato, ma era quello dell'impresentabile delle liste, loro avevano un'autostrada, hanno preso un buon risultato significativo, ma non hanno sfondato, perché secondo me ormai il Movimento a 5 Stelle è una realtà del nostro Paese da quattro anni, forte, significativa, a cui io guardo con grande rispetto, che in questa tornata da qualche parte potevano anche inserirsi per andare anche a provare a vincere. Poi c'è un risultato ovviamente modesto delle altre liste che pure va registrato. Quindi su Napoli io vedo spazi politici estremamente interessanti, perché tanta gente, nonostante l'alternativa del Movimento a 5 Stelle, nonostante la possibilità di cambiare a un governo deludente come quello Caldoro, non si è riuscito a sfondare, perché quando in una città come Napoli, che è politicamente e storicamente impegnata, che è la capitale del Mezzogiorno, va a votare il 40%, credo che nessuno può essere particolarmente esaltato di questo dato, anche chi ha preso un buon risultato. Quindi io rimango soddisfatto per esempio della scelta fatta, di non aver trascinato la città di Napoli in questa brutta, dura, difficile e intossicata campagna elettorale, di aver guardato con grande attenzione quello che accadeva e che sono pronto a continuare a rappresentare la mia città, che secondo me ha bisogno di essere rappresentata, amata e con persone che lavorano quotidianamente nell'esclusivo interesse dei cittadini. Ecco, diciamo in questo panorama noi ci siamo contraddistinti da sempre come quelli che con i fatti hanno dimostrato di essere presentabili in questo territorio e di aver lavorato a mani nude, senza soldi, migliorando nettamente come finalmente anche molti di voi si stanno rendendo conto di una città che è diversa, piena di gente, piena di vita, tra tanti problemi. Quindi con questa linea, con questo orgoglio, con questa forza e anche umiltà io mi presenterò al primo incontro con Vincenzo De Luca. La mia campagna elettorale comincia intorno ad aprile del 2016, nel senso quando si aprirà la campagna elettorale io ho necessità di governare, magari potessi fare dal primo giugno da oggi campagna elettorale, io ogni giorno non mi posso distrarre un attimo, devo lavorare e lavorare e lavorare, anche perché per me aver fatto per quattro anni, alla fine del mio Stato saranno cinque anni, il sindaco di Napoli è stata una gioia immensa, un'emozione e anche una sofferenza non da poco, ho pagato anche prezzi personali proprio perché ho amministrato in un certo modo, quindi la campagna elettorale la lancerò quando sarà il momento giusto, cioè a un mese, un mese e mezzo dall'elezione.